Col Diretti Puglia dice no alla riduzione dei fondi per la politica agricola comune. Il taglio di 39 milioni di euro sarebbe il più alto tra tutte le regioni italiane. I dettagli nel servizio. Per Col Diretti Puglia il taglio di 39 milioni di euro di fondi comunitari della politica agricola comune per l'agricoltura pugliese sarebbe un grave danno, soprattutto perché il settore ha guadagnato importanti primati nella qualità e nella sicurezza alimentare, dimostrando il grande dinamismo delle imprese agricole a dispetto di una burocrazia matrigna che fa perdere tempo e risorse allo sviluppo rurale. La considerazione successiva alla riduzione del budget per la politica agricola comune dal 2020 al 2021 prevista dalla proposta di regolamento transitorio adottato dalla Commissione europea. Alla Puglia toccherebbe, denuncia Col Diretti, una riduzione totale di 38,6 milioni di euro di cui quasi 19 in pagamenti diretti 2021 e quasi 20 per lo sviluppo rurale prevista nel 2021 con il passaggio dal vecchio al nuovo quadro finanziario pluriennale. È necessario garantire all'agricoltura le risorse necessarie per continuare a rappresentare il motore di sviluppo sostenibile per la Puglia, considerato il momento di fortissima criticità che il settore agricolo pugliese sta vivendo, denuncia Savino Muraglia, presidente di Col Diretti Puglia. Un settore è stretto nella morsa della burocrazia, della xylella, della criminalità e condizione aggravata dalla mancata spesa delle risorse del piano di sviluppo rurale sugli investimenti in agricoltura e sui giovani, con 142 milioni di euro andati in fumo a causa della gestione fallimentare della regione Puglia. L'agricoltura pugliese rischierebbe, conclude Muraglia, di indebolirsi ulteriormente.